Siamo qui con Naldo Gazzolo, uno dei più grandi doppiatori italiani e probabilmente il più versatile. Naldo Gazzolo ha infatti doppiato tantissime star hollywoodiane, da Clint Eastwood, da Yul Brynner, a David Neven, ma il motivo per cui siamo qui oggi è che Naldo Gazzolo ha interpretato il ruolo di Sherlock Holmes. Nel 1968, infatti, ci sono stati due sceneggiati rai, uno sulla Valle della Paura e l'altro sul Mastino dei Baskerville che fu intitolato L'ultimo dei Baskerville. E in quel caso Naldo Gazzolo non solo diede la voce ma recitò proprio come attore nel film. Ed è stato il primo italiano a recitare Sherlock Holmes e anche l'unico perché fino ad oggi nessun altro italiano. Esatto. Allora, gli vorrei chiedere che cosa ricorda di quell'esperienza. L'esperienza è stata bellissima, ma più che per aver scoperto Sherlock Holmes, perché in realtà io lo conoscevo di fama ma non avevo letto neppure un libro, quindi per me la lettura è stata affascinante, bellissima. E poi capitare proprio in Inghilterra nei luoghi di Sherlock Holmes è stato emozionante, molto, molto emozionante. Io sono stato molto felice di farlo, anche se io non sono affatto Sherlock Holmes caratterialmente, perché il motto di Sherlock Holmes è osservare, concatenare, dedurre, dedurre. Io non sono un bravo osservatore perché sono molto distratto, quindi non sono il contrario. Quindi non posso nemmeno concatenare, nemmeno dedurre, perché se non osservo tutto il resto non funziona più. Invece lui è un personaggio meraviglioso perché c'è questa intelligenza superiore alla media che lo rende così affascinante. mi piace essere in certi momenti come Sherlock Holmes, mi è piaciuto, mi è piaciuto essere come Sherlock Holmes perché questa intelligenza superiore, che io non ho, l'intelligenza normale, invece sentirmi così importante con un'intelligenza veramente superiore alla media, se no non riuscirebbe a risolvere certi casi. Lui li risolve perché hanno intelligenza superiore alla media. E io mi sentivo così importante anche io, ah come sono intelligente. Ricorda qualcosa della sua esperienza quando ha girato il Mastino dei Baskerville in Inghilterra? Come sono stati gli inglesi? Come era il paesaggio? Ricorda qualcosa? Noi eravamo nel Nistingland, adesso i nomi delle località non me li ricordo. Quindi c'era una vicinanza con gli inglesi del mare, della campagna, non della grande città. Questo forse è stato ancora più bello perché abbiamo conosciuto gli inglesi con una simpatia enorme, avevano una simpatia per noi, erano contenti che facevamo Sherlock Holmes, ci hanno invitato spesso a avere il tè con loro, c'è stato un rapporto con gli inglesi, molto bello. Senta, altre cose che ricorda di questo Mastino dei Baskerville oppure del suo rapporto con Watson per esempio, l'attore che impersonava Watson, avete lavorato insieme poi altre volte o no? No, era stata un'esperienza molto bella perché lui è riuscito a dare al personaggio un'intelligenza e quindi era un collaboratore di C'era la nostra, non era asa. Invece tante volte lo si vede come un po' passivo, uno che purtroppo non è intelligente, se non ci fosse Sherlock Holmes non avrebbe capito niente. Invece no, lui l'ha fatto intelligente, non come il suo grande amico, ma intelligente comunque. E quindi il rapporto era più bello perché era uno scambio di intelligenze, dove C'era quando ovviamente andava sempre oltre. Certo, ma erano tutti e due molto ironici, ecco mi ricordo questa ironia che contraddistingueva. Sì, sì, guai se non c'era l'ironia. A me col più molto andavamo in un punto dove c'era il mare, il mare era, abituati al mare italico, era nero il mare quasi, piombo, color piombo. Io andavo con l'impermeabile tutto chiuso, tutto coperto e gli inglesi stavano a fare il bagno in questo orrore, perché era proprio brutto. Sì, sì. Loro erano tranquilli, stavano a fare il bagno e io avevo l'impermeabile, stare tutto così, che li guardavo come stupefatto. Ma sono simpatici però, mi piace molto. Sì, sì, sì. Secondo me, ecco forse è il senso dell'umorismo che hanno, che è acutissimo. E questa è una ricchezza, perché gli dà sempre la possibilità di superare i momenti d'angoscia con l'umorismo. C'è stato qualche inglese che pensava che Sherlock Holmes fosse veramente esistito? Molti inglesi credo che siano convinti che sia esistito, che in un certo senso l'autore si sia ispirato a un personaggio veramente esistito. E questo li salva nel senso che se no sarebbe molto sciocco pensare che è esistito davvero. Però il fatto che l'autore si sia ispirato a un personaggio in parte vero, in parte autentico, beh, questo è possibilissimo. E quindi gli inglesi sono fermamente convinti che Sherlock Holmes sia esistito. Magari aveva un altro nome, ma è esistito. Cioè l'autore non si è ispirato al nulla, si è ispirato a qualcosa che esisteva veramente. E forse è possibile questo. Quelle persone che mi portarono lì, credo che fossero proprio innamorati, pazzi, proprio del personaggio. Sì, 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 loro sono proprio, c'è questa associazione. Sì, 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 quando io gli ho detto, e l'ho detto anche con la vostra presenza, ho detto, ma io non sono, perché sono molto distratto, quindi non riesco a entrare nel personaggio come pensate voi. Lo faccio perché sono un attore, anzi per me è bello che un attore faccia anche un personaggio che non gli assomiglia ma riesce a farlo in modo convincente, anche se poi in realtà non è proprio così. Eh, però un po' deve entrare. Noi nella vita portiamo una maschera, tutti portiamo una maschera, è una finzione totale, siamo finti fino a… perché se no non ci sarebbe il rapporto, il rapporto funziona perché fingiamo, perché abbiamo la maschera, se te l'abbiamo diventiamo tutta una… diventiamo i veri, diventiamo veri e noi non vogliamo essere veri, abbiamo più di questa maschera che ci illude o illude gli altri di essere migliori forse, non lo so, non lo so, credo che sia così. L'attore se lo leva la maschera invece. Quando io vado in scena, forse la maschera la porto come tutti, come vado in scena e mi metto a interpretare un personaggio, io la maschera la levo, è proprio che uno pensa che l'attore la maschera se la mette, no, è proprio il momento in cui se la leva, perché attraverso il personaggio dice il vero ed è vero in quel momento lì. ed è bellissimo questo momento, è un momento veramente magico, rimane però, il mio amore per Shakespeare rimane assoluto, come si fa a non amare questo Dio, che è un Dio. È un Dio, sì. Non è un Dio? Sì, sì, ma cominciano tutti e due per SH, Sherlock e Shakespeare vedono le stesse C'è una cosa che mi colpisce, Shakespeare proprio nell'essere non essere famoso, no? Ma a un certo momento dice, a un certo momento di questo monologo divino, c'è un certo momento in cui dice, chi sopporterebbe le frustrate agli scherni del tempo, le ingiurie degli oppressori, le insolenze dei superbi, le fitte dell'amore disprezzato, le lungaggini della legge, l'arroganza dei burocrati e i calci che i giusti e i mansueti ricevono dagli indegni, i giusti e i mansueti ricevono i calci dagli indegni, è ancora valido, continua a essere valido e questo l'ha detto William, il mio amico William. Grandioso!